Novena all'Immacolata per domandare la grazia che hai a cuore Ottavo giorno Ci affidiamo a Maria Santissima in questi nove giorni che ci conducono a una delle più importanti ricorrenze mariane che la Chiesa festeggia l'8 dicembre la solennità della sua Immacolata Concezione Maria, sin dal suo concepimento, fu preservata dal peccato originale per essere perfetta dimora del Figlio di Dio Il dogma dell'Immacolata Concezione proclamato ufficialmente l'8 dicembre del 1854 da Papa Pio IX afferma che Maria nacque senza ombra di peccato Preservata quindi dal peccato originale Lei, la tutta santa, fu scelta come colè che avrebbe portato in grembo il Figlio dell'Altissimo Io sono l'Immacolata Concezione E questo è il titolo con cui il 25 marzo del 1858 all'Urd la Beata Vergine Maria si presentò alla giovane veggente Bernadette Subirò che le chiese per ben tre volte chi fosse Esattamente quattro anni dopo la proclamazione del dogma la Madonna si identifica come l'Immacolata Concezione a conferma di una verità di fede sulla sua natura di creatura privilegiata da Dio che la rende unica perché non macchiata dalla colpa originale Novena all'Immacolata Concezione Ottavo giorno Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Vergine Purissima, concepita senza peccato tutta bella e senza macchia dal primo istante Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione Il tuo Dio in Figlio mi ha insegnato attraverso la sua stima rispetto e sottomissione a te quali onori e omaggi io dovrei prestare Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a te attraverso questa Novena Sei la madre di misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi poiché, dopo Gesù, sei tu la mia speranza con la tua intercessione materna Madonna, piena di bontà e potere presso il Signore ti supplico di farmi ottenere chiediamo qui la grazia di cui abbiamo bisogno Se ciò che ti chiedo non è per la gloria di Dio e per il bene dell'anima mia fammi avere quello che sia più conveniente a entrambi Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen O Vergine Maria sole senza macchia mi congratulo con te e mi rallegro con te che nella tua immacolata concezione Dio ti ha dato una grazia superiore e più abbondante di quella di tutti gli angeli e dei santi nel punto più alto della loro perfezione ringrazio la Santissima Trinità e ammiro la sua infinita bontà per averti concesso questa illustre prerogativa Ah fallo, Vergine Santa affinché io corrisponda sempre alla grazia divina e non ne abusi mai cambia il mio cuore affinché io incominci da questo momento a correggermi Amen Sia benedetta la santa e immacolata concezione della Beata Vergine Maria Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia il Signore è con te il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria Piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen O Immacolata Concezione Consolatrice degli afflitti guarda le mie sofferenze e i miei dolori sii con lei che rimane sempre con me anche quando i miei occhi si chiuderanno a questa terra e io mi presenterò al tuo divin figlio Madre mia custodiscimi sempre al tuo fianco e stringimi vicino al tuo cuore perché è all'ombra della croce che sono diventato tuo figlio Vergine Maria aumenta giorno per giorno il mio amore verso di te il tuo divin figlio sii il mio soccorso Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste per i meriti di tuo figlio la grazia esporre la richiesta Amen O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te Amen Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te preghiamo O Dio che con l'immacolata concezione della Vergine hai preparato al tuo Figlio una degna dimora in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni immacchia concedi anche a noi per sua intercessione di giungere fino a te in purezza di spirito noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo così sia Amen Che Dio ci benedica faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti